A livello proprio mondiale europeo abbiamo fatto la sicura proprio degli ultimi della coda sicuramente. Assolutamente no, credo che sia un'aiatura il fatto che il governo sia stato battuto al Senato, perché credo che questo governo abbia ancora la possibilità di dare risposte a molte attese della gente che l'arrestato non ha saputo dare. Secondo me è durato anche troppo, era una farsa questo governo, per adesso dopo 280 giorni si è dimostrato tale, vedremo domani.